Speusippo sembra aver insegnato che l'anima psichica o tumetica era immortale al pari dello spirito o anima razionale e più avanti mostreremo i suoi argomenti. Inoltre, come Filolao ed Aristotele, nelle sue disquisizioni sull'anima, egli fa dell'etere un elemento, così che vi erano cinque principali elementi per corrispondere alle cinque figure regolari della geometria. Questo divenne anche una dottrina della scuola alessandrina. In realtà, nelle dottrine dei Filaleti vi era molto che non appare nelle opere dei più antichi platonici, ma che, senza dubbio, era sostanzialmente insegnato dal filosofo stesso, seppur con la sua consueta reticenza egli non lo ammettesse in iscritto, essendo troppo culto per essere pubblicato. Speusippo e Senocrate dopo di lui erano convinti, come il loro grande maestro, che l'anima mundi o anima del mondo non fosse una divinità, ma una manifestazione. Questi filosofi non l'hanno mai concepito l'uno come una natura animata. L'uno originale non esisteva nel senso che noi diamo al termine. Solo quando esso fu unito al molteplice, esistenza emanata, la mona della diade, fu prodotto un essere. Il timion, il venerato, il qualche cosa manifestato, dimora nel centro come nella circonferenza, ma è solo il riflesso della divinità, l'anima del mondo. In questa dottrina troviamo lo spirito del buddismo esoterico. Un'idea umana di Dio è l'immagine dell'accecante luce che l'uomo vede riflessa nello specchio concavo della sua anima e tuttavia questo, in verità, non è Dio, ma solo il suo riflesso. La sua gloria è qui, ma l'uomo vede solo la luce del suo proprio spirito, che è tutto ciò che possa sopportar di vedere. Quanto più chiaro è lo specchio, tanto più luminosa sarà l'immagine divina. Tuttavia il mondo esterno non può essere mostrato in essa in ugual tempo. Nello yogi in estasi, nel veggente illuminato, lo spirito risplenderà come il sole meridiano, ma nella vittima avvilita dall'attrazione terrena, lo splendore è scomparso perché lo specchio è oscurato dalle macchie della materia. Questi uomini negano il loro Dio e vorrebbero privare in ugual tempo l'umanità della sua anima. Niente Dio, niente anima? Che terribile e annichilante pensiero! L'incubo sconvolgente di un pazzo. L'ateo che presenta alla sua vista febbrile una ripugnante e continua processione di scintille di materia cosmica creata da nessuno, che scaturisce da se stessa e esiste di per sé e da sé si sviluppa. Questo io, non io, perché è nulla e nessuno, derivante da nessuna parte, non è spinto da alcuna causa perché non ve ne è alcuna e si precipita verso nessuna parte. E questo, in un ciclo di eternità cieco, inerte e senza causa. Che cos'è in confronto, perfino l'erronea concezione del nirvana buddista? Il nirvana è preceduto da innumerevoli trasformazioni spirituali e metempsicosi durante le quali l'entità non perde nemmeno per un secondo il senso della sua propria individualità e che possono durare milioni di secoli prima che sia raggiunto il niente finale. Sebbene alcuni abbiano considerato Speusippo inferiore ad Aristotele, il mondo gli deve la definizione e la spiegazione di molte cose che Platone aveva lasciato oscure nella sua dottrina del sensibile e dell'ideale. La sua massima era, l'immateriale è conosciuto per mezzo del pensiero scientifico, il materiale tramite la percezione scientifica. Senocrate ha commentato molte teorie e insegnamenti non scritti del suo maestro. Anche lui teneva in grande considerazione la dottrina di Pitagora, il suo sistema di numeri, la sua matematica. Riconoscendo solo tre gradi di conoscenza, ovvero pensiero, percezione e prospezione o conoscenza intuitiva, egli considerò il primo rivolto a tutto ciò che è al di là dei cieli, la percezione rivolta alle cose celesti e l'intuizione ai cieli stessi. Ritroviamo queste teorie e quasi con lo stesso linguaggio nel Manava Dharma Sastra quando si parla della creazione dell'uomo in questi termini. Egli, il Supremo, trasse dalla propria essenza il respiro immortale che non perisce nell'essere e a quest'anima dell'essere diede l'am kara, ovvero la coscienza dell'ego come guida sovrana, poi donò a quest'anima dell'essere, l'uomo, l'intelletto formato delle tre qualità e dei cinque organi della percezione esterna. Queste tre qualità sono intelligenza, coscienza e volontà che corrispondono al pensiero, alla percezione e alla prospezione di Sionocrate. La relazione fra i numeri e le idee fu sviluppata da lui più che da Spiusippo ed egli superò Platone nella sua definizione della dottrina delle grandezze invisibili. Riducendole ai loro primari elementi ideali, egli dimostrò che ogni figura ed ogni forma derivava dalla minima linea indivisibile. Che Sionocrate si attenesse alle stesse teorie di Platone nei riguardi dell'anima umana, considerata come numero, è evidente, sebbene Aristotele lo neghi al pari di ogni altro insegnamento di questo filosofo. È questa la prova conclusiva che molte delle dottrine platoniche furono espresse oralmente, anche se fosse dimostrato che Sionocrate e non Platone fu il primo ad ideare la teoria delle grandezze invisibili. Egli fa derivare l'anima dalla prima diade e la chiama un numero semovente. Teofrasto fa notare che egli penetrò ed eliminò questa teoria dell'anima più di ogni altro platonico. Egli costruì su di essa la dottrina cosmologica e dimostrò la necessaria esistenza in ogni parte dello spazio universale di una serie successiva e progressiva di esseri animati e pensanti, sebbene spirituali. Per lui l'anima umana è un composto delle più spirituali proprietà della monade e della diade, dotato dei più alti principi di entrambe. Se, come Platone prodico, si riferisce agli elementi come a poteri divini e li chiama dei, né lui né altri di connessero alcuna idea antropomorfica. Crisce fa notare che egli li chiamò dei solo perché questi poteri elementari non fossero confusi con i demoni del mondo inferiore, ovvero i cosiddetti spiriti elementari. Poiché l'anima del mondo permea l'intero cosmo, anche gli animali devono avere in sé qualche cosa di divino. Anche questa è la dottrina del buddismo e degli ermetici e Manu attribuisce un'anima vivente anche alle piante e al più piccolo filo d'erba. I demoni, secondo questa teoria, sono esseri intermedi fra la perfezione divina e la corruzione umana ed egli li divide in classi, ognuna suddivisa in molte altre. Ma egli afferma espressamente che l'anima individuale o personale è il principale demone guardiano di ogni uomo e che nessun demone ha più potere su di noi del nostro proprio. Così il daemonion di Socrate è il dio o divinità entità che lo ispirò per tutta la vita. Dipende dall'uomo se aprire o chiudere le sue percezioni alla voce divina. Al pari di Speusippo egli attribuì l'immortalità alla psiche che è il corpo psichico o anima irrazionale. Ma alcuni filosofi ermetici hanno insegnato che l'anima ha una vita separata e continua solo finché nel suo passaggio attraverso le sfere rimane incorporata in essa qualche particella materiale o terrena e che quando è assolutamente purificata viene annichilita e solo la quintessenza dell'anima si fonde con il suo spirito divino, il razionale. E da allora i due sono uno.